Quest'anno rispetto all'anno scorso le cose sono state molto più semplici perché comunque c'era un sistema già rodato, mi riferisco ovviamente alle normative e alle prescrizioni Covid, lo scorso anno è stato complesso, dalla gestione della mensa al trasporto, quest'anno era un'esperienza già vissuta e quindi durante l'estate ci siamo dedicati a tutta una serie di interventi per rendere le scuole più confortevoli, abbiamo rinnovato delle aree gioco per i bambini e abbiamo fatto delle opere di manutenzione ordinaria riguardanti appunto l'interno dei plessi scolastici, per il resto ieri lunedì 27 è partito anche il servizio mensa e quindi diciamo che al momento la situazione è stabile anche per quanto riguarda problematiche relative alla quarantena non ci sono. Confidiamo quest'anno nel poter riprendere una certa progettualità concordando con le scuole magari anche delle uscite didattiche, cosa che l'anno scorso insomma non è stato possibile realizzare. Un inizio positivo e confidiamo che anche grazie alla campagna vaccinale che prosegue insomma di non avere problemi e soprattutto di non dover riattivare la didattica a distanza con le conseguenze gravi che poi ha ingenerato nei ragazzi.